pranzo in famiglia per luna fa un po la birichina mentre mangia gli spaghetti ma belen prontamente le dice non si fa così ma che fai non si fa così è buono come il spaghetti con la mano una india dentro se invece luna india si india india bellissima luna lo sa che non si fa però si voleva mettere in mostra infatti sorride subito a mamma belen